Lì a destra! Guarda che le cornie! Salta! Salta! Forse a sinistra sarebbe stato più facile... Il generale Gallo svolazzava via sdegnato ogni volta che Cutoro si avvicinava, ma la sia di piume stava conducendo il nostro eroe sempre più vicino alla torre dell'orologio. Inseguendo il Gallo, Cutoro aveva raggiunto il posto dove Mr. Pink lavorava. Una torre dell'orologio magica nel cuore della città del tempo. Piena zeppa di ingranaggi enormi e complicati. Gliene servono così tanti? Gli ingranaggi si incastrano per trasmettere il movimento. Sapete, si accordano alla perfezione per far sì che le lancette delle ore e dei minuti ruotino costantemente alla stessa velocità e poi sono utili per arrampicarsi. L'orologio della città del tempo aveva un peso. Un andolo magico che scandiva sempre il tempo con precisione, senza dover mai essere ricaricato. Era pura perfezione scientifica. Hai detto che era magico? Sto solo, cercando di creare un po' di atmosfera. Se vuoi fare la guastafeste, fai pure e attaccati a tutti i cavilli che trovi. Ma lascia in pace chi si vuole divertire. Grazie! Gallo! Hai riparato l'orologio? Usa Mr. Pink! Voglio quella città del tempo! La maestosa facciata esterna della torre era esageratamente decorata, il che fu un bene per Cutaro, che doveva raggiungere la cima. Quelle sono... uova? Ehi! Perché non le usi per arrampicarti? Ci serviranno più monetine? Sì! Manus è perfetto! Attenzione! Come osi rompere le mie uova e i miei piccoli! Ah, quelle erano due? Credevo che fossi un maschio. Io sono quello che mi pare! Sono un pavone! Ehm... Che due! Ehm... L'hai fatto di nuovo, mostro! Mentre il generale Gallo cercava di allontanarsi in volo, Cutaro gli stava alle calcagne. Maledetto rompiscatole! Perché non cadi? Guarda questo quanto è brutto! Ah! Vola pure! Ah! I miei piccoli! Invecille! Per ogni uomo che rompi, ti picchierò gieci volte tanto! Piccioni! Combattono in coppia! Perfetto! Hai un bonus speciale! Che sono tutte queste leve? Funziona! Azionale tutte! Cutaro si servì degli ingranaggi interni all'orologio per arrampicarsi. Un'altra leva! È una leva, vero? Non me ne tendo molto! Cutaro calcolò in fretta la rotazione degli ingranaggi, il ritorno delle molle e l'arco del pendolo, utilizzando la matematica per scalare la torre. Cutaro si fece strada tra gli infiniti elementi impegnati da sempre al servizio del tempo. Tutto! Più in fretta, Gallo! Perché ci stai mettendo così tanto? Brutto bipede pennuto! Guarda queste rotelle! Stanno ruotando! L'innato senso del ritmo di Cutaro gli consentì di superare gli ostacoli senza problemi. Sì! Ce l'abbiamo fatta! Che carina quella cucinella! Wow! Si è mossa! È la ruota della roulette! Che significa il teschio? È buono! Uno! Di nuovo una cucinella! Addio! Mandaci una cartolina! Dopo una lunga arrampicata, Cutaro raggiunse finalmente la cima della torre. Ehi! Eroe delle forbici! Sono quassù! È stato trasformato in una lancetta! Salvami, ti prego! Prima che l'orologio segni la mezzanotte! Tempo scaduto, Cutaro! Presto questo mondo sarà avvolto da un'eterna nudità! Un'eterna oscurità? Vorrei dire. Non osare, brutto pollo! Non sei nella posizione di insultare nessuno! Se l'ha svignata! Inseguilo! Ho la mia ala! Bene! Adesso taglia l'altra! Ma le lancette dell'orologio si avvicinavano alla mezzanotte. Se Cutaro non avesse fatto in fretta, quell'uccello folle sarebbe stato l'ultimo dei suoi problemi. Piantala di giocare socco! Calibrus non ha scelto proprio te! Sogli le corde che mi tengono legato! E come facciamo con questo... Non fartelo sfuggire! Aia! Basta! Sì, ottimo lavoro! Purtroppo, oramai, mancavano solamente pochi rintocchi allo scoccare della mezzanotte. Soltanto il coraggioso Cutaro poteva allontanare quel pericolo imminente. Oh, siamo spacciati! È quasi mezzanotte! Non c'è più speranza! Il mondo finirà! Non avrei mai dovuto affidarmi di due! Silenzio! Ci pensiamo noi, perciò... Sta calmo, ok? Sì, come no! Attacca i proverbiali guantoni al diodo! Ci siamo quasi! Spenna questo tacchino fino a farlo cantare! Nooo! Non ce la faccio! Finiscilo! E su le corde! Il mio bellissimo piumaggio! Ah, vi arrostirò tutti quanti! Attento! Distruggerli! Surgilala! Meraviglioso! Giusto il tempo! Sbrigati! Il tempo sta per scadere! Bruciate! Eccolo qui! Brucia! Sì! Ben fatto! Frammento recuperato! Orologio riparato! Ottimo lavoro, Cutaro! Ehi! Ma che fate? Sono quassù! Mi aiutate, per favore! Grazie! Un attimo! Arriviamo! Nooo! Ehi! 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 La scimmia prese la palla al balzo. Quando scoccò la mezzanotte, i sogni raggiunsero la loro fase più oscura e terrificante. Cutaro, guarda! La terra! Vedi Cutaro? Ora i bambini di tutto il mondo saranno intrappolati in un incubo inesorabile! Il mio signore raccoglierà le loro anime e diventerà invincibile! Drago! Vieni avanti! Apri i cancelli della terra! Portami le anime di quei bambini! Cutaro aveva sconfitto il gallo inutilmente. Doveva aspettarsi che la scimmia avrebbe giocato sporco. E ora che il danno era fatto, era impotente di fronte all'avanzare della notte. Il passato non poteva essere cambiato neanche nella città del tempo. Detto da ripipare però non è un caso così. Il passato non poteva essere cambiato come 15 anni.